Avrebbe avuto un malore, forse per l'eccessivo caldo che sta colpendo in questi giorni l'intera Sicilia ed in particolare la provincia di Agrigento. Nel primo pomeriggio di ieri un uomo di 69 anni di Raffadali, Antonino Burgio, è morto dopo un volo di circa 5 metri. L'operaio è precipitato da un'impalcatura mentre era intento a lavorare nella costruzione di una cappella funebre nella nuova area del cimitero comunale di Aragona, piccolo centro in provincia di Agrigento. L'impatto sul selciato è stato violento. A prestare i primi soccorsi al 69enne che non sarebbe morto sul colpo, sono stati i colleghi di lavoro che hanno subito allertato il 118 e le forze dell'ordine. I sanitari hanno tentato disperatamente di rianimare l'uomo. Dopo le prime cure e visto l'aggravarsi delle condizioni di salute di Antonino Burgio, è stato chiesto l'intervento dell'elisi soccorso dall'ospedale di Caltanissetta. Per l'operaio però non c'è stato nulla da fare. Sarebbe deceduto sull'ambulanza allo stadio comunale di Aragona in attesa di essere trasferito. L'elisi soccorso si è rimesso in volo per far ritorno nel vicino ospedale Sant'Elia. Allo stadio erano presenti, oltre le forze dell'ordine, anche i colleghi di lavoro dello sfortunato operaio e alcuni familiari. Sul posto è arrivato poi il magistrato di turno. Sulla morte di Antonino Burgio è stata aperta un'inchiesta per capire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione che hanno transennato la zona e messo sotto sequestro la cappella in fase di costruzione a disposizione dell'autorità giudiziaria per ulteriori e approfondite indagini. A terra vi sono alcune chiazze di sangue, le scarpe da lavoro dell'operario deceduto, una canotta bianca insanguinata e gli arnesi da lavoro. L'afa e il caldo sono altissimi nella zona della tragedia. La temperatura sfiora i 40 gradi. Le prime indagini puntano ad accertare per conto di chi l'uomo che sarebbe in pensione da alcuni anni fosse all'opera all'interno del cimitero e se gli interventi fossero regolari o meno.